Nel buio della sera le luci, i laser e le installazioni artistiche segnano un percorso di circa un chilometro immerso nella natura. Illuminano dando nuovi effetti, alberi e grotte creano tunnel e galasse colorate. Ai giardini della Villa Reale di Monza è stato il primo weekend della mostra immersiva multisensoriale di Light Art Trame di Luce, uno degli eventi di punta del calendario natalizio del capoluogo monzese che accompagnerà i visitatori fino al 7 gennaio. Un'esperienza per adulti e bambini alla scoperta di un percorso magico fra installazioni con effetti speciali e opere d'arte luminose di artisti nazionali e internazionali accompagnate dalla musica soffusa del pianista Alberto Boff. Dalla scalinata della Villa Reale l'itinerario si sviluppa tra gli alberi e il pittoresco laghetto, dalla torretta al tempietto del lago dei Cigni, fino a immergersi nei tunnel di luci o tra installazioni luminose. Le luci ripercorrono le forme degli elementi naturali o li reimmaginano con figure di fantasia e colori. Si prova a ricreare così un clima di festa, in linea con il periodo di Natale, per portare le famiglie alla riscoperta di uno dei luoghi simbolo per le sue bellezze naturali e artistiche del territorio come i giardini della Villa Reale. Al termine della visita un'area di degustazione gastronomica per creare un ultimo momento conviviale. Il percorso è accessibile a pagamento dalle 17.30 alle 23 con ultimo ingresso alle 21.30 con gruppi scaglionati ogni 30 minuti. L'accesso è al Serrone in via Lebrianza a fianco della Villa Reale. Pochi passi che separano dalla città e aprono la magia di un percorso nella natura e nell'arte.